Amici 23, allievo innamorato fa una proposta a Giulia Stabile. Tra i vincitori delle ultime edizioni del talent show sicuramente la ballerina è una delle protagoniste più amate e apprezzate dal pubblico. Dopo l'esperienza di Amici la giovane si è cimentata nella conduzione a Tu, Siche, Vales. Poi si è parlato molto della sua storia d'amore con San Giovanni. A quanto pare, tuttavia, la relazione tra Giulia Stabile e San Giovanni è terminata. Sulle voci di rottura è intervenuta la diretta interessata, cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con San Giovanni. Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore. Nessuna smentita ne conferma, ma le sue parole lasciano pensare che sia davvero tutto finito. E ora potrebbe nascere un nuovo amore. Nelle ultime Oli Francisco, cantante tra i protagonisti di questa edizione di Amici recentemente eliminato dopo essere stato scelto da Anna Pettinelli, ha ammesso di essere innamorato di Giulia Stabile. Nei giorni scorsi l'allievo è stato avvistato tra gli spettatori di una masterclass tenuta proprio dalla ballerina, poi si è rivelato anche sui social. Qui Oli Francisco ha chiesto aiuto ai suoi fan, ragazzi, Giulia non mi risponde. Ditemi voi come ci asterisco 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 si chiama su X. Alla sua richiesta di informazioni ha risposto la stessa Giulia che ha commentato con tre emoticon delle risate, come a dire, eccomi qui. Poi lei stessa ha alimentato il gossip con una battuta. Giulia Stabile ha scritto, ma quindi Oli Francisco è diventato tipo il capo dei giuggioli? A questa domanda ha risposto lo stesso cantante che ha rilanciato, se per capo dei giuggioli intendi colui che ti porterà all'altare sì. Insomma una proposta di matrimonio in piena regola. Certo si scherza, ma l'interessamento di lui nei suoi confronti c'è, che possa sbocciare un nuovo amore.